allora il primo problema quando dobbiamo affrontare un personaggio del genere è quello relativo alle fonti Socrate è un personaggio al limite del mistico io rischiando anche un po' di essere blasfemo tendo a paragonarlo a Gesù è un personaggio di cui tutti parlano ma di cui pochi sanno davvero qualcosa di cui pochi possono dire di conoscere effettivamente non tanto la sua vita perché a differenza di Gesù di Socrate della vita si sa abbastanza perché è un personaggio esistito, conosciuto, rinomato quindi fonti che raccontano di lui e ce ne sono tante ma è difficile stabilire cosa davvero pensasse perché? perché non ha scritto niente in tutta la sua carriera molto lunga carriera di che? il filosofo, il filosofo proprio prototipo classe non era uno che si faceva pagare non era il suo lavoro non faceva altro era un povero che camminava in giro scalso per Atene proprio il prototipo del filosofo come ce lo immaginiamo e non ha scritto un solo rigo di tutto ciò che ha tra virgolette insegnato capiremo cosa intendiamo con lui tra poco e allora mi chiedo ci chiediamo subito ancora prima di iniziare perché sia così importante parlare cioè cercare di capire il pensiero di un autore che non ha lasciato un rigo scritto lo è perché come avrò scritto nelle slide successive il nostro Socrate è alla base di quella che è la nostra cultura occidentale così lo riteniamo come tale ed è curioso, perlomeno curioso un tizio di cui sappiamo veramente poco o comunque abbiamo poche certezze è alla base della nostra radice la nostra cultura evidentemente di questo tizio di cui sappiamo poco crediamo di sapere molto il Socrate che vi racconterò sarà anche quel Socrate della tradizione di cui crediamo di sapere tutto ma che facilmente invece da buoni filosofi onesti intellettualmente dobbiamo invece riconoscere che molti sono ancora i dubbi comunque andiamo a vederlo andiamo a vederlo subito tanto questo problema delle fonti sarà il primo che affronteremo intanto colloquiamolo siamo ad Atene è atenese di origine non come i sofisti di cui sopra di cui invece abbiamo sempre detto sono emigrati ad Atene perché ad Atene si guadagnano un sacco di soldi insegnando la retorica lui invece è atenese di nascita quindi e questo è importante per capire quello che poi ci racconterà quindi appartiene alla cultura della città in cui vive in cui opera e in quella stessa città dove sarà condannato perché Socrate scopriremo sarà condannato a morte dalle stesse leggi che lui difendeva è allievo di Anasagora questo dato se ve l'ho messo qui tra i pochi dati che vi riporto è perché essere molto importante non tanto per capire Socrate quanto per capire l'influenza che ha avuto Socrate nel futuro della storia della filosofia fino ai tempi nostri Anasagora ricordiamoci che è il filosofo pluralista del nous dell'intelletto cosmico che tanto piacerà ai successori di Socrate tra cui Platone e Plotino e soprattutto piacerà ai filosofi cristiani perché identificheranno quel nous con Dio però non è questo con Socrate anzi Socrate del nous per quanto ne sappiamo non ce ne parla però da Anasagora si è trasferito ai suoi successori quindi vi offro quella che può essere una sorta di massima che accompagnerà tutto l'operato di Socrate l'idea che la filosofia non sia un qualcosa che si impara quindi tantomeno un qualche cosa che si insegna ma la filosofia è un atteggiamento è un comportamento la filosofia è qualcosa di pratico non tutti i socratici saranno d'accordo su questo però per quel che noi possiamo ricostruire di Socrate la filosofia è soprattutto qualcosa di pratico qualche cosa che si fa non qualche cosa che si sa anzi di sapere Socrate ci dirà proprio ve lo anticipo così che non si sa assolutamente niente può essere messo tranquillamente come a capo di tutto lo scetticismo futuro oppure no però sicuramente la filosofia sicuramente nel senso che escludendo ogni ragionevole dubbio per Socrate sicuramente la filosofia è qualcosa di pratico è una ricerca della vita buona quindi che cosa rende l'uomo felice perché l'uomo felice lo è quando fa qualcosa e soprattutto una cura dell'anima come diremo più avanti primo problema Socrate è un sofista la tradizione filosofica dice una risposta ci offre una risposta sola chiara e inequivocabile no la tradizione io preferisco dirvi sì o meglio preferisco dirvi che per alcune cose per alcune impostazioni alcuni suoi atteggiamenti diciamo così può essere tranquillamente iscritto nel club dei sofisti per quello che i sofisti hanno portato hanno insegnato e per alcune cose no la tradizione dice assolutamente no perché la tradizione ha voluto relegare i sofisti nella periferia della filosofia sofisti gioccolieri di parole imbroglioni eccetera eccetera attaccati al vil denaro tutto il peggio si poteva dire della filosofia è stato detto quindi certamente Socrate non si può iscrivere in questo club ma siccome nel nostro percorso i sofisti non sono stati trattati così i sofisti hanno portato un insegnamento che è qui elencato in queste due mezze frasi e allora Socrate poiché ha fatto altrettanto può essere tranquillamente inserito in questo club di coloro che prendendosi cura dell'uomo cioè del suo essere sociale aver bisogno di una società e quindi dotazione politica legge eccetera si preoccupa di sviluppare di approfondire di studiare analizzare quella che è la peculiarità dell'uomo stesso ovvero l'uso delle parole il linguaggio Socrate sul linguaggio ci dirà delle cose particolari che altri sofisti hanno detto meno i sofisti hanno insistito sulla persuasione i sofisti che abbiamo trattato non che sono un'altra scuola perché per me anche Socrate è un sofista gli altri sofisti hanno trattato il linguaggio ricercando soprattutto il significato della correttezza e dell'utilità prima della correttezza dopo e quindi della persuasione come risultato mentre invece Socrate si è concentrato più che altro sulla forma del dialogo questo perché perché su una cosa su un aspetto che rende forse diverso Socrate gli altri sofisti è il fatto che lui credesse nell'esistenza di valori comuni lo dico con un po' di remora perché non sono convintissimo non sono convintissimo con questo però lo accetto lo accetto perché da qualche parte dobbiamo partire se prendiamo il Socrate così come ci viene raccontato da una parola parte dell'attrizione Socrate crede nell'esistenza di valori comuni che è un po' come dire crede nell'esistenza della verità non crede che essa sia raggiungibile non sia conoscibile ma che esista e per raggiungerla per avvicinarsi ad essa per lo meno per avvicinarsi alla comprensione di quei valori comuni a cui tutti gli uomini tendono quindi l'uomo inteso come umanità come avrebbe detto Protagora bisogna dialogare cioè bisogna confrontare i nostri valori particolari ognuno di noi e i suoi sulla base di quello che vi pare quindi ha i suoi valori particolari che può estenderli può confrontarli soltanto attraverso il dialogo ecco per questo aspetto relativo al dialogo e alla credenza di essenza di valori comuni Socrate sicuramente non può essere scritto nel club dei normali sofisti è un sofista speciale perché prima di vedere ancora le fonti chiediamoci perché Socrate non abbia scritto niente qui la fonte è quella classica è Platone Platone ci spiega il perché Socrate non abbia scritto una parola in vita sua però ce lo spiega mettendolo per scritto e lo fa raccontare allo stesso Socrate allora Platone non vi ho detto chi è nei confronti di Socrate è una delle fonti ovviamente ed è uno dei suoi allievi noi la stragrande maggioranza delle conoscenze che abbiamo su Socrate ce le abbiamo da Platone questo comporterà dei problemi che vi dirò dopo comunque intanto in questa specie di dialogo Platone fa dire a Socrate a lui stesso il perché non abbia scritto e lo racconta con un mito con un racconto Socrate si mette qui e al suo interlocutore certo Fedro così si chiama il dialogo spiega il perché secondo lui la scrittura non rende gli uomini più sapienti ma di contro li rende più poveri più poveri dicono li rende più ignoranti ora non stiamo do una scorsa veloce a tutto il testo perché è interessante almeno quello relativo alla prima colonna la seconda colonna ve la lascio da soli dice Socrate ho sentito narrare che in Egitto dimorava un vecchio dio un certo Teutotot egli fu l'inventore dei numeri del calcolo della geometria dell'oste insomma era un dio inventore inventava un sacco di cose che poi offriva al popolo egiziano lo offriva presentandosi alla corte del faraone in questo caso Tamus che abitava in Egitto a Tebe insomma Tot andava quando aveva una nuova scoperta a disposizione da offrire al popolo egiziano andava da Tamus e gli rivelava le sue arti dicendo che esse dovevano essere diffuse presso tutti gli egiziani il re ascoltava le proposte fatte dal dio e giudicava quelle che riteneva utili le approvava quelle che riteneva dannose le disapprovava a un certo punto toccò alla scrittura questa scienza diceva disse Tot renderà gli egiziani più sapienti e arricchirà la loro memoria perché questa scoperta è una medicina per la sapienza e per la memoria il re rispose oh ingegnosissimo Teut una cosa è la potenza creatrice di arti nuove altra cosa è giudicare quale grado di danno e di utilità esse possegano per coloro che le useranno e così ora tu per benevolenza verso l'alfabeto di cui sei inventore hai esposto il contrario del suo vero effetto perché esso ingenererà oblio nelle anime di chi lo imparerà essi cesseranno di esercitarsi la memoria perché fidandosi dello scritto richiameranno le cose alla mente non più dall'interno di se stessi ma dal di fuori attraverso segni strani ciò che tu hai trovato non è una ricetta per la memoria ma per richiamare alla mente né tu offri vera sapienza ai tuoi scolari ma ne dai solo l'apparenza perché essi grazie a te potendo avere notizie di molte cose senza insegnamento si crederanno ad essere dottissimi cioè imbottiti di nozioni ma nozioni di cui non sapranno niente non sapranno che cosa sono ma tantomeno sapranno usarle della seconda colonna vediamo solo quello che vi ho messo in grassetto la scrittura è in una strana condizione simile veramente a quella della pittura i prodotti cioè della pittura si stanno davanti come se vivessero ma se li interroghi tengono un maestoso silenzio se li interroghi non sanno spiegarti niente di quello che ti hanno insegnato con i libri con la scrittura non si dialoga i libri dunque anzi creano quel pregiudizio tutto umano che Socrate cercherà di evitare tutta la vita e cioè che si possa conquistare una certa dose di sapienza e una volta conquistata dunque la si possa mettere per scritto perché si conserva ma una volta conservata la sapienza quella resta lì non cambia più si irrigidisce e soprattutto non ci insegna nulla anzi ci esercita questa idea che noi possiamo indottrinarci di una conoscenza leggendo la verità di qualcun altro mentre invece Socrate ci insegnerà che la verità va cercata dentro di noi questo richiama alla mente un paio di collegamenti che possono essere interessanti il primo sembra proprio l'insegnamento di Eraclito non per me ma per il Logos che è l'insegnamento è niente se non è un qualche cosa che troviamo dentro di noi solo con la differenza sostanziale tra Eraclito e Socrate che vedremo meglio quando capiremo Socrate però intanto mi viene in mente questo Socrate ci ricorda che la conoscenza venuta dal fuori come quella che io vi sto offrendo ora in questo momento sto parlando io voi forse state ascoltando e non mi state interrogando quindi è una conoscenza è un indottrinamento quindi state buttando giù come un imbuto tutta una serie di parole che se non capite non ve ne farete di nulla e l'unico modo per capirle qual è è un domani se non oggi parlare con me su questi argomenti però va bene adesso la sto registrando questa lezione quindi parlo io poi è in dubbio che tutto questo dovrà essere prediscusso per essere compreso ma non solo questa lezione in generale qualunque lezione tutto questo mi fa venire in mente un altro aspetto interessante che è abbastanza moderno contemporaneo prendiamo il caso della rete io sono abbastanza vecchio ma non poco ho vissuto il passaggio tra da un'epoca non diciamo 2.0 come si dice non digitale dove l'informazione è stata pressoché tutta digitalizzata tradotto l'epoca di wikipedia per capirsi ma non era solo questo insomma un'epoca di internet dove l'informazione può essere può essere scovata in qualsiasi momento può essere recuperata in qualsiasi momento c'è un grandissimo cervello fuori di noi il cloud dove tutto è depositato tutto il contrario di tutto c'è tutto quello che serve e un'epoca invece dove tutto questo non c'era dove l'unico modo per conoscere qualcosa era leggere leggere tutto quello che capitava andarsela a cercare l'informazione ma spesso non si sapeva neanche dove cercare quindi quella è la differenza che ho visto in queste due epoche chiamiamole così e nella prima ho visto il Socrate che interroga interrogando il sapere un'informazione che riceve deve sforzarsi e lo sforzo è interno per andare a cercare le risposte e trovandone anche poche perché le informazioni sono poche sono difficili a trovare l'unico luogo sono le biblioteche ma avere una biblioteca a disposizione non significa sapere come e dove cercarlo soprattutto se le biblioteche non sono ben catalogate avere invece però questo ti porta allo sforzo della ricerca ti fa muovere e lo sforzo della ricerca è sa stessa ricerca perché fa la ricerca è qualcosa di consapevole qualcosa di indirizzato è qualcosa di cosciente mentre invece avere a disposizione in qualunque momento il sapere porta paradossalmente all'oblio di quel sapere perché è come accumulare molto cibo in casa alla fine ti dimentichi di averlo sai non ti sforzi neanche di sapere quello che hai e infatti metà del cibo viene buttato via perché va male la divagazione quindi la sovrabbondanza di informazioni è come non averla anche perché ci rende pigri nei confronti della ricerca stessa ora lungi da me parlare male dell'esistenza dei web e tanto più di wikipedia di cui tra l'altro non faccio altro che contribuire ogni volta che ne ho la possibilità e anzi è una delle più grosse conquiste dell'umanità contemporanea però questo è il Socrate che ci sta questo è il motivo per cui Socrate non scrive che ci sta insegnando non basta avere l'informazione è necessario saperla interrogare è necessario saperla usare l'informazione di per sé è vuota è nulla passiamo all'altro problemone le fonti come facciamo a sapere tutto quello che sappiamo di Socrate è una scelta difficile infatti l'interpretazione di Socrate può cambiare tantissimo secondo delle fonti che prendiamo io qui ne prendo tre ne prendo solo tre sono quelle che vanno per la maggiore e ce le facciamo bastare però ne prendo tre particolari la prima è di Aristofane Aristofane è un un mediografo piuttosto famoso sicuramente l'avrete anche sentito nominare uno che scriveva commedie di satira ferocissima e non so chi può essere paragonato oggi uno che fa satira proprio violenta Luttazzi forse vabbè qualcuno del giorno anche ma peggio sì comunque il venacoliere dei tempi buoni ora ultimamente l'ho un po' presso di vista però c'è stato un periodo in cui si è completamente violento quindi che non ha problemi a parlare di amore di sesso religione morte politica tutto va bene ci buttiamo dentro tutto mi stavo ronzando in testo un nome ma in questo momento Natalino Balasso però sì va bene tutto in modi più o meno volgari anzi a livello di volgarità Aristofane forse era più paragonabile quindi parolacce offese personali tutto poteva essere usato allo scopo di denudare il potente quindi la satira è tutta rivolta ai potenti ai personaggi influenti e che la satira aveva secondo Aristofane il dovere il modo di dire il dovere di mettere a nudo di ridicolizzare ora tra gli tra gli obiettivi destinatari della sua violentissima satira c'è proprio e questa è una fonte interessante perché perché la dice la dice lunga su alcuni aspetti primo è che se Aristofane si prende il disturbo di costruire di scrivere una commedia intera tutta dedicata a Socrate vuol dire che Socrate era un personaggio davvero importante altrimenti Aristofane lo avrebbe tranquillamente ignorato non aveva tempo da perdere scrive una commedia tutta rivolta alla critica e della persona e dell'insegnamento di Socrate lo fa in un clima particolare particolare piano piano diremo anche questo però intanto la prima cosa che prendo come fonte è questa una commedia dedicata a Socrate Socrate era un personaggio in vista e in quanto in vista di che si occupava Socrate secondo Aristofane si occupava di perdere il tempo di far perdere il tempo ai suoi cittadini andava in giro scalzo andava era un perdigiorno un chiacchierone era povero era povero è vero Socrate nel suo processo si difenderà quando lo leggeremo dicendo io sono povero quindi non mi faccio pagare ed è vero forse secondo molte fonti però comunque era un perdigiorno era un uomo che con i suoi insegnamenti allontanava i giovani atenesi dall'attaccamento alle tradizioni quelle che avevano reso Atene molto forte e quindi Aristofane accusa Socrate e quelli come lui tutti i sofisti Aristofane c'era morto tutti i sofisti quindi per lui Socrate era un sofista come gli altri ce l'aveva a morte con i sofisti perché li ritiene responsabili della sconfitta che Atene subì nei confronti di Sparta nel 404 tradotto in termini più generali culturali ce l'ha a morte con i sofisti perché li ritiene responsabili del disaffezionamento dei giovani atenesi nei confronti delle tradizioni quindi della loro patria per capire quindi sono apportatori di questo relativismo culturale di quest'idea che con le chiacchiere si possono vincere i discorsi spallati come ora li vediamo nell'opera insomma sono delle persone da evitare e dedica loro quest'opera e ritiene questa è la fonte interessante Socrate con una specie di capo dei sofisti questa combriccola di sofisti le altre due fonti che vediamo sono Platone e Aristotele queste due fonti sono pericolose Platone è la fonte tradizionale noi penso il 95% del Socrate che crediamo di sapere è il Socrate che ci racconta Platone Platone è stato suo allievo e di fatto ne ha fatto una specie di biografia perché ogni opera che Platone ha scritto Socrate è il protagonista è Socrate che parla ma è molto difficile distinguere il Socrate che parla o il Platone che fa dire a Socrate le idee di Platone poi ci ritorneremo anche su questo quando parleremo soprattutto di Platone però lo possiamo immaginare però è quel Platone quello che ce ne parla di più di tutti quindi il lavoro dei filologi è quello di cercare di distinguere il Socrate autentico da quello diciamo influenzato dall'allievo Aristotele Aristotele è allievo a sua volta di Platone quindi Aristotele non ha conosciuto Socrate direttamente ma ne conosce l'insegnamento e quindi la sua fonte appare abbastanza distaccata per prenderla per buona ed è interessante Aristotele la fonte di Aristotele perché ci presenta come Socrate lo scopritore del concetto e teorico della virtù come scienza però questo lo riprenderemo quando prendremo nel contenuto soprattutto perché scopritore del concetto che cos'è un concetto vediamo la prima di fonte e qui vi invito a leggere diciamo la scorriamo velocemente in questi ultimi minuti proprio l'introduzione di quest'opera l'opera si chiama Le Nubole e sul perché si chiama Le Nubole non ci interessa oggi io vi invito a leggerla perché è veramente gustosa divertentissima ma ci accontentiamo dell'introduzione e anzi ve l'anticipo io il prologo il prologo è questo ci sono due tizi padre e figlio Tirchipide e Lesina primo il figlio il secondo il padre dove il figlio cioè il padre è preoccupato perché il figlio ha perso un sacco di soldi giocando ai cavalli e il padre deve pagare questi debiti quindi è molto preoccupato per sé per la sua borsa e allora prima di pagare i debiti invita il figlio ad iscriversi alla scuola dei sofisti il figlio non capisce perché perché i sofisti sono delle persone deplorevoli disgustose dice babbo perché vuoi che mi scriva alla scuola di questi cialtroni in questo dialogo ce lo spiega allora in fondo due case a sinistra l'esina dice beh guarda qui vedi questa porticina e questa cassettina e indica la casa di Socrate la vedo che cos'è babbo è un pensatoio d'anime sapienti qui dimorano certi uomini che ragionando anzi il tono dovrebbe essere ragionando provano che il cielo è un forno e questo forno è intorno a noi e noi siamo i carboni e tammaestrano pagando a vincere con i ragionamenti le cause buone e le spallate attenzione tammaestrano quindi come te sei l'animale loro sono gli ammai gli addomesticatori pagando ovviamente a vincere con le parole con i ragionamenti ok i sapientoni ti insegnano a vincere le cause buone ma soprattutto le spallate le cause spallate sono le cause stupide perse tipo questa in questo momento tirchipide ha una causa spallata perché deve pagare un sacco di debiti quindi è in torto marcio i debiti li ha fatti però in questa scuola ti insegnano a vincere di fatto diventando dei chiacchieroni come gli avvocati sanno essere di fronte ai giudici ti insegnano come far credere che hai ragione anche se hai torto e chi sono ma il nome preciso non lo so ma gente a modo pensatori fini ho capito purfanti sono dici quei ciarlatani allampanati e scalzi che fra di loro contano Socrate e Cherefonte Cherefonte è il nome da ricordare zitto zitto non dire corbellerie se a cuor ti sta la pappa paterna lascia perdere i cavalli e si del loro numero ma neppure se mi doni i fagiani giurà bacco che mantiene le ogora ti supplico ho più ho il più diletto fra i mortali essendo mio figlio va va ed apprendi ma cosa devo apprendere dice l'esina presso costoro ci stanno due ragionamenti il buono e quale sia batte la pesca ed il cattivo ed uno di essi il cattivo dicono da vinte le cause più spallate e se mi impari questo ragionamento l'ho spallato delle somme che debbo per via tua non ne restituisco un sol quattrino non posso compiacerti va mi dispiace non eserei bla 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 ah per Demetra quando è così non lo mangiate più il pane mio né tu né la pariglia né il puro sangue ricordiamoci questo è il cavale cavallo ma ti metto fuori di casa vai a quel paese lo zio omega che non mi ci lascerà senza cavalli io di te me ne infischio e ti saluto e se ne va l'esina che rimane dunque con tutti i suoi debiti e senza il figlio che vuole iscriversi a scuola decide io caddo sì ma non ci resto a terra chiedo enumi assistenza e me ne vado al pensatoio ad imparare io stesso ma vecchio come sono e smemorato e tardo come apprenderò quei trucioli i discorsi sottili perché questi tizi si esprimono con discorsi molto raffinati sanno usare davvero bene le parole per farti credere il vatte la pesca ma andare bisogna che sto qui a tentennare se no qui pago i debiti che non picchio a quell'uscio ehi di casa brava gente quindi finalmente bussa la porta apre che le fonte e lo invita ad apprendere a vincere le cause spallate e qui inizia questo era solo il prologo inizia tutto il nostro tutta la nostra commedia e per oggi direi che possiamo anche finire qua perché con la prossima lezione invece cercheremo di raccontare la fonte quella ufficiale di Platone che ovviamente dovrà di fatto difendere la figura il pensiero l'insegnamento di Socrate proprio da queste accuse che dobbiamo però ricordare che c'erano e soprattutto erano tenute molto di conto perché un personaggio con Aristofane non si sarebbe preso la briga di attaccarlo in questo modo con questo è tutto è tutto Grazie a tutti.